ci hanno detto il contrario sicuro sai che dobbiamo ispezionarli bene e c'è una tassa e non parlarci in questo modo su 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 attenzione c'è qualcuno che si aggira c'è qualcuno che si aggira c'è qualcuno che si aggira c'è nessuno ti devo un favore non ti chiederò della maschera dopo un trucco simile nemmeno io vorrei farmi riconoscere sai che ti dico? mi sdebiterò sono Griff passa al mio negozio o meglio un tempo lo era ma ora mi sono ridotto a recuperare oggetti qua e là in questa città moribonda se ti serve qualcosa te la venderò io a buon prezzo forse un giorno la peste passerà e tutto tornerà normale fino ad allora mi toccherà frugare fra gli scarti vuoi vedere quello che ho trovato? ti faccio un buon prezzo 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 Grazie a tutti. 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 Qualcuno mi aiuti! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. 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 a tutti.